Prenotazione delle visite, pagamento dei ticket, conoscenza dei tempi d'attesa, fruibilità anche dal telefonino. Queste alcune delle nuove opportunità offerte nel nuovo portale dell'Asla 8 di Arezzo www.usl8.toscana.it. L'indirizzo del nuovo sito web dell'Asla di Arezzo è realizzato per garantire una più semplice e completa consultazione dei servizi sanitari da parte dei cittadini della nostra provincia e non solo. La maggiore novità è quella della prenotazione online che ti permette ovunque sei con qualunque tipo di tecnologia mobile di poter prenotare lo stesso il pagamento online e poi la possibilità di editare, scaricare i moduli direttamente dalle stesse tecnologie e quindi poter risparmiare un viaggio rispetto a quelli che sono gli uffici per la prestazione. Noi vogliamo che i professionisti, non solo i medici, anche gli infermieri, i tecnici, insomma fra loro discutano, vedano cosa è meglio fare, si accorgano, si misurino e anche si confrontino su chi fa meglio, un po' di voglia di fare meglio del collega non ci dispiace. Abbiamo quindi inventato questo sistema della community online con un accesso riservato, ovviamente possono vedere i propri dati, i dati dei propri colleghi, possono discutere, che naturalmente hanno autorizzato che questa accada, possono discutere con i colleghi come una specie di forum online su quale migliore cura. Questo naturalmente per tutte le patologie principali, naturalmente tutte quelle previste, malattie croniche, previste dal sistema della sanità di iniziativa e tante altre.